Cari ragazzi, è una vera gioia portare ancora una volta il mio saluto a voi, alle vostre famiglie e all'emozionante realtà di Special Olympics. L'anno che ci stiamo per lasciare alle spalle è stato un anno difficile per tutti. Per voi giovani atleti soprattutto, chiamate importanti sacrifici personali tra scuole chiuse, socialità negata, l'impossibilità di utilizzare palestre e centri sportivi per i vostri allenamenti. Lo sport, al pari della scuola, è una preziosa occasione di crescita e di formazione umana e ciò attraverso l'impegno quotidiano, il confronto, la condivisione degli obiettivi, la fatica e il sudore spesi per inseguire sogni e ambizioni. Eppure, nonostante i mille ostacoli della pandemia, non avete mai mollato, anzi vi siete inventati nuovi modi per continuare ad allenarvi in sicurezza e soprattutto senza mai perdere la speranza e la fiducia in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Penso agli Smart Games, i giochi nazionali a distanza organizzati da Special Olympics. Nelle settimane del lockdown vi hanno dato la possibilità di competere in ben 19 discipline sportive. Penso alle tante altre meravigliose iniziative di cui siete stati protagonisti in questi mesi. Ci avete persino dimostrato che se lo si vuole veramente è possibile camminare tutti insieme fino alla luna. Ecco, questo vostro non darvi mai per vinti è un esempio di forza e di coraggio che va ben oltre la sfera sportiva. È una lezione di vita, di voglia di vivere, di gioia di vivere, a cui tutti noi abbiamo il dovere di guardare perché c'è molto da imparare. È la prova che barriere, pregiudizi e stereotipi possono essere infranti laddove si scontrano con tanta forza di volontà, tanta tenacia, tanto cuore. Il vostro grande cuore, la vostra incredibile determinazione.